Commento al Vangelo di mercoledì 11 gennaio 2023, a cura di Don Vincenzo Marinelli. Guari molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Sono molti i modi di guarire di Gesù, ma talvolta non riusciamo a rendercene conto perché si ha la pretesa di essere guariti da Gesù solo nella forma che si desidera. Ogni malattia ha la sua forma di guarigione, perché le malattie sono varie e non sono tutte di natura fisica, anzi la maggior parte ha origine da difficoltà di ordine psicologico. Le malattie più comuni, infatti, sono i nostri pensieri negativi, che ci tolgono la pace. Paure, ansie, timori possono addirittura diventare una mentalità, uno stile di pensiero, un chiodo fisso che può portare a disturbi anche patologici e depressivi. A volte cerchiamo la guarigione nel rimuovere il problema, piuttosto che chiedere al Signore di volta in volta la perseveranza di esercitarci nella pazienza, nell'ascolto, nel sopportare i disagi. La prima guarigione che Gesù dona non sono i miracoli, ma la sua grazia. È questa che ci sostiene nelle prove, nella fatica, nelle malattie della vita di qualunque genere. Scoprire la forza che ogni volta la sua grazia è capace di donarci è la prima e inesauribile fonte per l'inizio della nostra guarigione.